Stentato successo della Roma di fronte alla solida squadra della Spal, che si è difesa molto bene ed è stata piegata di stretta misura per 2 a 1 al termine di un incontro dal finale movimentato. Manfredini senta la rete di testa e Matteucci è costretto in angolo. Attacca la Roma e un lancio di pestrine deviato da un difensore trova pronto Orlando a scappare evitando Matteucci e a segnare di prepotenza. Roma 1 sal 0. Raddoppia l'Oiacono su un allungo di Selmoson con un preciso rasoterra che si insacca imparabilmente. Abbracci dei giallorossi all'ex Fiorentino. Cudicini non trattiene un cross di Carpanesi e Novelli raccoglie e segna con un guizzo. Dopo una rete di Manfredini annullata per una spinta del cannoniere sudamericano ai danni dei terzini ferrerisi, l'arbitro Genel concede un rigore per un fallo di mano di Stucchi in area. Ma sei però alza il pallone a satellite sulla traversa. Un sospiro corale, la Roma è ancora grande.